Complimenti ai fenomeni che hanno sfregiato con vernice rossa la basilica palladiana. Sporcare le pareti bianche di questo patrimonio di Vicenza e di tutto il mondo è un atto di inciviltà, di ignoranza e di mancanza di educazione. Un gesto vergognoso che però non resterà impunito. La polizia locale è già sulle tracce dei responsabili che, alle 2.20 della notte tra sabato e domenica, hanno sporcato questo patrimonio dell'UNESCO. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato le immagini di due uomini provenienti da Piazza Matteotti che hanno attraversato Piazza dei Signori e mentre uno faceva da palo, l'altro metteva il suo bollo di idiozia sui muri della basilica. La polizia locale sta già verificando i filmati delle telecamere, sia pubbliche che private, che stanno in Piazza dei Signori. Si è già scoperto che sono stati due giovani, non giovanissimi però, che attorno alle 2.20 della notte dell'altro ieri si sono macchiati di questo gesto assurdo e incivile. L'idea è quella di denunciarli il prima possibile appena saranno individuati, perché chiaramente scontino dal punto di vista penale quello che è previsto dalla legge, ma anche per chiedere un risarcimento dei danni. Adesso la sovraintendenza dovrà autorizzare la pulizia della colonna, che verrà affidata alle mani esperte di un restauratore. Intanto questo scarabocchio rosso resterà provvisoriamente come rappresentazione della frivola idiozia di chi aspetta la notte per sfregiare vigliaccamento un monumento che simboleggia la bellezza.